musica 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 buona youtube sono AliGamer e oggi sono qui insieme ad AliGamer cozzinghiozzo per fare un minigame il deathmatch ah grazie che è un minigioco di battaglia dai premi start ok entra come Ali Ali tempo al cambio partita tra pochi secondi inizia il deathmatch possiamo scannarci e ho inizi a prendere l'arco e fece e ho inizi a prendere l'arco e fece e ho inizi a prendere l'arco e fece dove le trovate? qui in questo cassone come è bene non riesco a colpirti che sei cercato? 4 3 2 1 eccoci e siamo non c'ho più l'arco e fece che dobbiamo fare? dobbiamo scannarci dobbiamo prendere dalla chest delle obe che saranno utili per scannarci 3 io già faccio il tag life e ti colpisco vieni qua che ti prendo a pulire io prendo un codio dalla chest una mappa nel nether 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 8 10 10 9 10 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 19 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 E' iniziato nel deathmatch e io corro via. Oh, la lava! Au! E' dall'altro lato? Non te lo dirò mai. Meglio prendo altra roba. Un arco! Chi ha vinto? E' una volta il vincitore è all'e-game. Beh, fai molto emensi e poi dopo questo episodio finirà. Chi vince? Questo ha vinto brutto, dai. Cosa riuscitele qua? Questo sarà il primo episodio di una possibile serie che vedrete sul canale di AlliGamer. il deathmatch. Guarda, c'è Bobo al culo! Vedete la mia bellissima skin? E' una gnocca mezza nuda. Ecco, siamo tornati dal nether. Canale. E' una gnocca. Oh, è ovvero! Noi! non mi vedi sono diventato invisibile ah lì ti fisco ah l'effetto della posizione è svanita ma più veloce lelelelelelele mamma mia io credo che è più intelligente questa è la partita definitiva dopo questa c'è l'ultima partita ti ho colpito la testa come uno scemmotto you are an even idol no questa è la definitiva su ok tu ho uno per me ho vinto io perfetto AliGamer sei il vincitore di questo primo deathmatch prossimamente ne vedrete altri ma da Jack700 e AliGamer ciao 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 ciao